cari topografi appassionati di catarto questa volta il geometra con gli stivali vi parlerà dell'approvazione automatica spesso sapete durante tutti i miei convegni le mie conferenze quando vado in giro per l'italia mi dicono a me hanno sospeso il tipo per questo mi hanno sospeso per quest'altro e così via ma io che sono notoriamente molto 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 cattivo rispondo se il tipo era perfetto non poteva essere sospeso tutto questo voglio chiarirlo in questo video e nel documento allegato oggi se tu fai perfettamente il libretto delle misure la proposta di aggiornamento i modelli sensuali e le relazioni tecniche è difficile che un tipo venga sospeso in automatico venga sospeso dall'operatore anche perché la macchina è stupida non ha consuetudini locali se un tipo va bene a trapani andrà bene anche a treviso senza nessun problema è chiaro che esistono ancora alcune categorie alcune tipologie in cui non è prevista l'approvazione automatica ma di questo parlerò in un prossimo video ma per perseguire questa finalità quindi avere sempre il tipo approvato è necessario applicare a mio avviso quanto già abbiamo condiviso nei video precedenti ma soprattutto nei documenti allegati ti prego di non guardare solo i video ma scarica i documenti e leggi li applica costantemente quanto da me riportato perché frutto di una grande esperienza pluriennale e di prove e riprove fin quando siamo sicuri che quello che è scritto lì sopra è sicuramente qualcosa che possa andare bene quindi scarica ora il documento leggilo con attenzione non andare al prossimo video se prima non l'hai studiato come al solito puoi farmi domande io cercherò di risponderti direttamente su questa piattaforma nel prossimo video vedremo quali sono le categorie che ancora per il momento non è possibile avere l'approvazione automatica ti aspetto buona vita da Pino Mangione Grazie a tutti Grazie a tutti